ciao a tutti amici siamo negli studi drop sound e con riccardo d'acunto stiamo cercando di sperimentare con vari r per migliorare il suono del contrabbasso elettrico e portarlo ad avvicinarsi il più possibile al suono del contrabbasso vero che io adoro ma che molto spesso diventa veramente impraticabile in tante situazioni lavorative più complesse come i palazzi o i palchi molto grandi quindi alla fine secondo me abbiamo trovato veramente un ottimo compromesso che spero vi piacerà grazie a tutti